Ciao, sono io e sono una cantautrice. All this past, nothing is lost. Today's the day I like the most. Would you make me feel happy? Let me be myself again. Dopo un'esperienza scenista durante la quale ho pubblicato diversi album ed EP, ho finalmente trovato nel 2009 i musicisti adatti alla mia musica, al mio modo di intenderla. In questo modo sono nati i end-appetries, che sono Teo Marchese, che è un batterista e produttore insieme a me e arrangiatore dei dischi, Lorenzo Fugazza, chitarrista, suona il banjo, il culet, eccetera, e Paolo Legramandi, che sono al basso. Con loro abbiamo fatto diversi dischi, alcuni EP, molte date che sono state definite agricole, molto floreali e energiche. Adesso vorremmo fare questo nuovo disco, che sarà un pochino diverso dai precedenti, soprattutto ci sarà un passo in avanti rispetto alle sonorità agricole che abbiamo avuto fino adesso con gli EP, per fare questa cosa infatti avremo anche diversi ospiti, dei quali non svelerò per adesso i nomi. Per dare vita a questo nuovo step musicale e per realizzare questo nuovo lavoro abbiamo bisogno del vostro supporto. Per ringraziarvi del vostro aiuto abbiamo pensato a diverse ricompense che troverete sulla pagina della raccolta fondi. Continuate quindi a seguirci sulle nostre pagine sulle quali provvederemo a condividere l'avanzamento di questo lavoro. Grazie a tutti! Stop today Stop today Ciao